E adesso voglio fare una meditazione con voi. Prima iniziamo con la postura giusta, è sempre importante che la spina dorsale sia dritta, la testa in linea con la spina dorsale e quando chiudiamo gli occhi possiamo già cercare di tenere gli occhi un po' alzati, quando sono giù gli occhi è più che entriamo nel subconscio, quando sono diritti davanti è più nella mente conscio che parla sempre, mentre se riusciamo ad alzare gli occhi possiamo subito essere più nel livello della nostra coscienza che porta alla supercoscienza. In questa posizione vogliamo iniziare con qualche respiro, semplicemente respirare in modo naturale attraverso il naso e cerchiamo di focalizzare la nostra mente sul respiro, lì dove è più facile percepirlo, potrebbe essere nella diaframma o forse nel petto nei pulmoni, seguite l'ispirazione e l'espirazione. cercando sempre di tenere la mente concentrata sul respiro. potete cercare di sentire la freschezza dell'ispirazione nelle narici e della teppore con l'espirazione. continuate a seguire il respiro, l'ispirazione e l'espirazione con la concentrazione della mente. e per aiutare la concentrazione della mente potete ripetere un mantra con il respiro. il mantra che uso e uno in sanscrito io sono l'ispirazione con l'ispirazione e l'ispirazione. e con gli occhi sempre leggermente alzati guardando nell'occhio spirituale il punto fra le sopracciglia. la mente rimane osservatore del respiro. proprio come un membro del pubblico che guarda la persona che danza sul parco scenico. non controlla il movimento, ma semplicemente osserva. la danza del respiro dentro di voi. e se la mente è vaga, se ci sono suoni che distraggono la mente. invece di respingere il suono, abbraccia il suono e portarlo dentro di te, nel flusso del tuo respiro. e continua ad osservare con la mente il respiro. il flusso del tuo respiro. o del io sono pace. io sono luce. io sono luce. e 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 ora con un respiro più profondo lascia la pratica di osservare il respiro. e io sono luce. 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 Grazie a tutti. E chi vuole può continuare a meditare e chi è pronto può prendere un altro profondo respiro. E quando si sente pronto a aprire gli occhi. Grazie a tutti.